Per quanto riguarda il risultato, sono contentissimo. In questo momento della stagione, come si vince, bene o male, basta vincere. Soprattutto perché c'è Como-Venezia, quindi uno delle due quantomeno perde dei punti e quindi la vittoria doveva essere e la vittoria è stata. E su questo credo che siamo tutti d'accordo. Poi, come sapete, a me piace fare la parte del rompipalle e sinceramente a me questa vittoria, come è venuta, non mi convince, diciamo così per non dire altro. Perché le partite del Parma sono praticamente sempre uguali. Primo tempo bellissimo, oggi il primo tempo è un po' bello, è durato un po' di più. Parte sempre a razzo, eravamo già avanti dopo sette minuti con il miracolo, proprio un miracolo, un gol di Bonni con assist di Cicizzola. Se non è miracolo questo non so che altro nome dargli. e poi eri avanti con il rigore sacrosanto di Benidicac. Hai retto bene, come sempre, anche col Cittadella, 40 minuti e poi però hai sempre quel momento di sbandamento dovuto a cosa? Dovuto a una difesa che è una difesa da retrocessione. Diciamolo chiaramente, a me non me ne frega nulla dei clean sheet, non me ne frega una mazza che il Parma fino a ieri subiva un gol ogni tre partite o quello che era. Non me ne frega nulla, il Parma ha una difesa da retrocessione. Non da retrocessione ha sicuramente una difesa non per andare in Serie A, mettiamola così. Perché soffrire una partita che è stabile dominando per l'ennesima volta vuol dire che un problema c'è. A Parma lo sotterrono sempre questo problema qua, ma c'è. Un problema di mentalità, non lo so come vuole chiamarlo. Oppure perché i nostri difensori, a parte i circati, che sono gli unici che si salvano spesso e volentieri, forse oggi è un po' imprecisina anche loro due, ma comunque si salvano spesso e volentieri, il resto della difesa fa schifo. Ancora lo stesso Colibali, che per me io lo confermerei in caso di Serie A, però ogni tanto anche lui fa delle cappellate e quindi la difesa non è all'altezza. Se Raimondo non sbagliava in quel mondo il rigore, tu saresti stato due a due. Perché è in porta un manichino che non sa fare il suo lavoro, un incompetente portiere più scarso che aveva visto in vita mia. E noi abbiamo avuto sepe, tra l'altro. Pensavo di aver visto tutto con sepe, invece ho visto di peggio, sto vedendo di peggio, con Ciccizzola. Tu saresti stato sul due a due. Poi, a differenza ecco, di altre partite, quantomeno hai avuto una reazione e sei riuscito ad andare avanti, anche se comunque un po' in maniera affortunata con un autogol. Poi dopo, magari, riesci ad andare comunque sul tre a uno, ma non riesci ad ammazzare la partita. Hai avuto una marea di contropiedi, l'hai gestiti malissimo, ma malissimo. Proprio errori grossolani. Poi, comunque, la difesa non ti dà certezza che, anche sul tre a uno, non ti dà la certezza di vincere. Il problema maggiore del parma è questo. Che abbiamo una squadra da primo posto, dal centrocampo in su, e poi in difesa abbiamo una squadra di difesa da mezza classifica. Non so neanche come definirla. Ternata bene oggi che la Ternana, con tutto il rispetto, è una squadra che merita di stare nelle zone basse della classifica. Contentissimo perché è arrivata la vittoria, questo è l'importante, ripeto. Però diciamolo che le partite del Parma sono sempre uguali, ci sono sempre gli stessi problemi che si ripresentano ciclicamente, e la prossima tu cercati non ce l'hai per squalifica e giocherà ancora Balgo con Osorio. E c'è davanti il Brescia che ha rifiato quattro gol al Palermo. Sapete benissimo che ci odiano e quindi i conti di noi daranno il cento per cento. Sarà tosta, insomma. Poi i soliti problemi di sottoporta di Mann, ma anche di altri giocatori, perché comunque anche Bonni, cioè sì, ok, il miracolo che ha fatto gol, però nel secondo tempo è sparito dal nulla anche lui, ancora. Quanto meno nei primi 25 minuti ha provato di tiri in porta e c'è già qualcosa. Peccato perché noi avremmo una squadra secondo me da vincere o quasi in scioltezza la Serie B e poi per la difesa e le scelte come sempre, magari oggi un po' meno, perché comunque Pecchio oggi diciamo che ha fatto, io ho visto fare cose più orribili. Comunque stai diciamo allungando un po' il brodo quando potresti essere già avanti un po' di più. Comunque vittoria doveva essere vittoria stata. Oltre ai gol di Bonni e l'assessi di Ciccizzola sono stati altri due miracoli, gli ingressi in campo di Betici e Ciorac, ovviamente per umiliarli e metterli in campo al 75esimo e all'80esimo sul 3-1, ma comunque il contito che meno qualche minuto l'hanno avuto. Dai, prendiamoci questa vittoria qua, speriamo che Come, Venezia, pareggino, ma comunque il nostro dovere l'abbiamo fatto e quello è l'importante. Saluto e al prossimo video, ciao.